una delle cose da vedere sicuramente a capri sono i giardini di augusto dei giardini di augusto puoi ammirare una delle strade più spettacolari al mondo via krupp la storia risale ai primi anni del novecento ed è strettamente legata alla figura del tedesco frederick alfred krupp proprietario delle grandi acciaierie tedesche ed appassionato di ricerche biologiche marine dall'hotel dove alloggiava gli risultava molto difficile e scomodo raggiungere il suo panfilo ormeggiato a marina piccola fu allora che decisi di trovare una soluzione per raggiungere facilmente l'imbarcazione fece costruire questa splendida strada panoramica scavata nel costone roccioso sovrastato dai giardini di augusto via krupp poteva così collegare il centro storico dell'isola a marina piccola che all'epoca era raggiungibile solo dalla via mulo è possibile ammirare la strada dall'alto dalla terrazza dei giardini di augusto i giardini di augusto ti offrono infatti da un lato una suggestiva vista di via krupp dall'alto e dall'altro dei famosi faraglioni i giardini di augusto sono facilmente raggiungibili in quanto distano solo pochi minuti a piedi dalla piazzetta di capri ciao a tutti se ti è piaciuto questo video metti un like iscriviti al nostro canale puoi anche guardare uno di questi altri video o visitare il nostro sito web tripillare.it ciao al prossimo video